Domenica 9 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Napoli. Sono chiamati a votare i sindaci di consiglieri dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana. Il Consiglio metropolitano di Napoli è composto da 24 membri, cui si aggiunge il Presidente del Consiglio, che per legge è il Sindaco del Comune Capoluogo. Le liste, che devono essere composte da un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 24, dovranno essere presentate all'ufficio elettorale costituito presso la città metropolitana dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 18 e dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 19 settembre 2016. Sono elegibili al Consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste. Le liste di candidati per il Consiglio metropolitano devono essere sottoscritte da almeno 77 degli eventi diritto al voto, pare al 5% del totale. Entro il 1 ottobre le liste con i nominativi dei candidati saranno pubblicate sul sito internet della città metropolitana. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'unica giornata di domenica 9 ottobre nel seggio costituito presso l'ufficio elettorale insediato nella sede della città metropolitana di Piazza Matteotti a Napoli. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 8 di lunedì 10 ottobre. Alla programmazione dei risultati provvederà l'ufficio elettorale il giorno stesso delle operazioni di scrutinio oppure, ove necessario, il giorno successivo. L'ufficio elettorale, per poter procedere alla programmazione, calcolerà l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica. Il valore del voto di ciascun elettore cambia infatti in base alla popolazione del comune di appartenenza. Tutte le informazioni, la normativa e la modulistica sono consultabili sul sito web della città metropolitana.